Dal confronto con le famiglie pro nonni è uscita una richiesta chiara, mantenere la scelta di considerare la condizione dei nonni nei nuovi criteri di accesso ai servizi educativi. Così il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, torna a parlare del nuovo regolamento per l'accesso ai nidi e alle scuole per le infanzia comunali, che prevede appunto la tanto discussa quota nonni. Nessuno confonde i servizi educativi con la rete affettiva, prosegue, ma i criteri esistono per dare delle priorità. Una famiglia che si prende cura di una persona anziana a un livello di criticità maggiore di chi non è nella necessità di farlo, a meno che non si ritenga che un nonno molto anziano o disabile debba essere lasciato solo a se stesso. Domani il vice sindaco invece incontrerà i portavoce dei genitori che hanno criticato asparamente il nuovo regolamento e contemporaneamente in Piazza della Libertà si terrà un sit-in, mentre la raccolta fondi lanciata dal segretario comunale del PD di Arezzo, Matteo Bracciali, ha raggiunto quasi 600 adesioni. Ovviamente, conclude Lucia, Tanti sono disponibili ad ascoltare chi la pensa diversamente, come giusto che sia, anche raccogliendo suggerimenti. Ed intanto, a meno di tre giorni, dal prossimo Consiglio Comunale, riconvocato d'urgenza per il voto su una variante urbanistica e la presentazione e l'approvazione del regolamento sull'accesso ai servizi per l'infanzia, dopo la mancanza del numero legale, l'inizio dei lavori slitta di 5 ore, non più alle 9 di venerdì 2 febbraio, ma alle 15. A comunicarlo è stato il presidente del Consiglio Comunale, Luca Stella. La motivazione sarebbe la mancanza nella mattinata di alcuni consiglieri e due eventi in concomitanza.